ciao a tutti da me e da promettino molto bene allora oggi siamo qui col vincitore del giovedì ok ok allora oggi il vincitore del giovedì ha vinto per il commento e no per i punti quindi direi subito da dare leggere i vostri commenti vincitori che sono qui allora martina stickers simona costantini petri feilli stickers francesca duca colori il mandorle in fiore stickers il fab colori gerbera verde colori laura bonuccelli petri carmela tarallo stickers verus capicinelli petri e giorgio gessa petri quindi petri 4 punti stickers 4 punti colori tre punti come potete vedere qua c'è un pallino perché il commento che ha dato la vincita al di stickers è stata carmela tarallo è il primo commento che sono andata a vedere e così c'era scritto stickers perfetto se c'era scritto colori per esempio andavo al secondo commento tra il primo in poche parole come mi spiego io porcaccia il primo che saltava fuori tra questi due molto molto bene ovviamente andando in fila dal primo fino fino ok allora allora prima 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 di scoprirle chi non vedo l'ora è ovviamente ha vinto il disco era gli stickers con lo sfondo galaxy petri euro blu e magenta mi sembra e poi con la combo colori era verde liquido e verde in polvere molto bene adesso vediamo le tre opzioni per la prossima volta riporto stelline altra volta non avuto nemmeno un punto lo cagherà qualcuno oggi lo scopriremo stelline grumini e la combo che vi faccio vedere subito che è questa questa pasta qua beige e il liquido yellow brown ok ok sempre combo strane tiro fuori molto bene quindi scegliete quel cavolo che volete tra questa combo i grumini e le stelline perfetto e ora non vedo l'ora di scoprire questi stickers allora praticamente come vedete ho usato stampi grossi perché si doveva vedere comunque l'effetto galaxy dietro e in più ho provato a fare un esperimento barbatrucco per non far alzare troppo gli stickers vediamo un po ho provato a mettere più resina trasparente così ok loro si alzavano penso che ad una certa poi dovrebbero bloccarsi alcuni dovrebbe essere apposto la situazione invece altri ho visto che magari qualche angolino è salito però adesso li scopriamo e vediamo tutto molto bene voglio subito partire da questo qua ho fatto lo sfondo blu così non c'è nessunissimo motivo una cosa che mi viene da dire è che avevo ancora in giro tutti i glitter dello galaxy scorso e non li avevo ancora tolti tutti erano sempre in giro sboccavano fuori adesso ho fatto ancora altre galaxy quindi per il resto non per sempre saranno fino al fino a che ci sarà ci sarà molto bene cosa ho detto non lo so vediamo un po partiamo subito con il serpentino ho cercato di scegliere stickers che si abbinassero un po all'effetto galaxy a parte due o tre penso che mi hanno ispirato e basta ma non lo so adesso vediamo questo l'ho scelto per la stella la cometa quel cavolo che è devo dire che lo sfondo è uscito molto molto bene vedere il galaxy con tutto questa roba qua luccicosa top 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 molto bello qua lo sticker se vedete si è un po girato appunto ma solamente perché era lo stampo fatto così vedete ha seguito lo stampo poi questo era anche uno di quelli che si alzava però col barba trucco che ho usato ci siamo top 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 ovviamente ogni tanto devo buttarli giù però non mi hanno fatto disperare come le altre volte quindi nel caso che avete questo problema provate a mettere un titanino in più di resina trasparente molto bene prima top ora vediamo questa ovviamente non mi ricordo tutti gli stickers che ci sono dietro anche se le ho fatte ieri molto bene qua abbiamo questa fatina che sembra tipo Elsa abbronzata più o meno e praticamente ci sta molto molto bene più che altro per i colori visto che c'è un po di magia così forse dovevo ritagliare un po il bordo in alcune l'ho fatta però sta molto molto bene ed è molto molto bella l'effetto galaxy anche nel serpentino era molto bello quindi top 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 vedete che la situation è un po più alta no perché il telefono non ce lo vuole far vedere ma abbiamo scoperto due così quindi facciamo un bel tondino e vediamo un po che cosa c'è ok tipo questa era una che non c'entrava molto con galaxy però un maialino che se la sta spassando nella galassia cioè vi pare che chiccherino che chiccherino e guardate come se la luccica questo questi sticker tendono a fare un po così e poi mi sembra di avere anche un po ritagliato può essere o no non mi ricordo però qualcuno l'ho ritagliato perché c'era un po troppo bianco secondo me molto molto bello il maialino nella galassia tra un po ci sono pure io nella galassia con tutti questi glitter allora di cuoricino hanno fatto solo uno e poi hanno fatta una anche un po più grossa ma li vediamo un po dopo questo cerchiamo di togliere un po di questi qua blu che ce ne sono abbastanza e con questa qua guardate che sberla qui porcaccia la miseria però per impazzire meno si deve trovare un sistema guardate questa zebra com'è carina la zebra vero non lo so questi mi ha ispirato ok non vi so dire perché però mi ha ispirato qua ci sta forse il colore è un po l'azzurro degli occhi un po questo grigino del corpo che si abbina un po questi glitter cioè guardate che sciccherina questa creazione guardate che sciccherina molto molto carina questa penso di averla tagliuzzata molto bene poi facciamo queste due qua che sono così solitarie ok non dobbiamo fare sentire nessuno solitario quindi forza allora guardate qui guardate qui c'è qualcuno che viene qua pulirmeli perché di solito non ci voglio pulirli io ve lo dico ok questo sì che era un po strano però c'è è la viola quindi secondo me viola e blu ci stava un po col galaxy questo cuore che se la spassa un po arriva tipo un segnetto qui pronto vabbè quindi top ci sta questo cuore che se la vagabonda un po cercare la sua anima gemella nella galassia magari può incontrarsi con il maialino top 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 che sciccherina comunque devo dire che le galassie mi stanno piacendo molto e ora facciamo questa qui allora questo stampo qua mi piace veramente molto perché tipo bombato squadrato rettangolare curvo scintillante ok ok anche qui questo sì che è molto simpatico si è un po girato questa mongolfiera ok però ci sta ci sta perché comunque se la sta svolazzando nella nella galassia quindi può stare come cavolo gli pare bella quale l'argento proprio così guarda come se la brilla molto bella molto bella sacco di argento un po mi schiottato col viola e col blu come brilla no vabbè un applauso un applauso molto bene quindi ora facciamo un cerchiolino dai ci sta vediamo un po come brillano questi glitter con tutti i glitter che mi aveva mandato martina viola e blu non potevano fare altri galaxy quindi poi ve l'avete fatto vincere quindi top perché qua decidete voi ma guardate com'è carino a parte e guardate com'è carino questo sticker se qua non c'è niente da dire poi è bellissima forse un po too much l'argento però con questi scintillini qua non è mai troppo too much ma è bellissimo questo che cavolo è non lo so un cucciolo di un unicorno che si è accoppiato con un shrek secondo me che se la spassa su questo ombrello svolazzando libero nella galassia che carino bellissima questo sticker qua sticker qua top 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 e adesso direi che è giunto il momento di vedere il cuoricino vediamo un po ok guardate qui no non fatemi ci pensare non fatemi ci pensare ok ok qui abbiamo ovviamente questo unicorno che si era spassa sulla nuvola quindi più di lui che era più adatto a stare nella glassia quasi visto palesemente che ho un po togliuzzato io al bianco si vede abbastanza ma facciamo finta di niente ma la galassa dietro è proprio proprio bella top 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 molto molto carino molto bene poi vediamo questo vediamo questo qui che cosa c'è dietro non mi dico ma proprio guardate che si sberla qua di trasparenza porca la miseria allora olè ok questo era tipo un altro che non c'entrava praticamente niente con la galassia perché comunque cercato di prendere cose un po così invece questo qua come il maialino però devo dire che questo assetto qua ci sta molto molto bene qui probabilmente non sono tagliato se era così perché si tende a bagnare un po però sembra molto carino l'effetto ma se vedete non so se lo state vedendo lo stickers qua era uno di quelli che se l'è proprio viaggiata volevo farvi vedere ma non si vede ma se ci fate caso si vede che un po se l'è ballata e se l'è ballata un party di danza un party danzerino galaxy molto bene adesso direi di vedere questa qua grande 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 quando ho visto questo sì che ho detto questo è perfetto per la galassia però era uno sticker gigante quindi ci voleva uno stampo giga 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 spa e vabbè vabbè c'è c'era qualcosa di c'è top e qui sono andata a tagliare perché il bianco era tutto fino a qua invece ho tagliuzzato un po qua un po qua perché era un po to match e vogliamo tagliuzzare anche un po più in cui però avevo paura che poi si muovesse troppo lo stickers per lo sticker però scusate un momento un ruttino molto importante molto molto bello la galassia dietro bellissima vi posso dire che dal vivo sono molto molto più belle cioè sono veramente molto molto soddisfatta oggi ok quindi diciamo che ora facciamo questo e poi questo ok ok vediamo un po tic 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 sba o guardate questo quanto è bello wow questo sticker squad come un po il gattino l'ho pensato mega adatto per questa per questo sfondo sinceramente non so che cavolo sia sta roba ma è veramente bellissima questa creazione top 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 cioè guardate che chiccherina come brilla poi questi colori quasi abbigliano molto con questi dello sfondo quindi approvatissimo molto bene e ora vediamo con che cosa finiamo non lo so non lo ricordo vediamo un po vediamo ok un altro unicorno beh questo qua era sul sul pianeta potevo non farlo po come quell'altro che avevo fatto c'è top 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 veramente bellissimo anche qua un esagerazione di glitter argento ma ci sta ci sta perché è bellissimo quindi top 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 veramente bellissime queste creazioni tu sei soddisfatto pomettino ti ringrazio quanti glitter quanti glitter quindi per favore pomettino dimmi quella tua preferita il serpentino e si può mettere il serpentino è veramente molto molto carino invece la mia preferita vi devo dire che è il figlioletto qua di sherek con l'unicorno perché troppo troppo carino forse lo sticker non lo so per me la mia preferita è questa qua quindi allora con calma fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni e se avete voglia fatemi sapere anche quella vostra preferita intanto vi ricordo instagram link amazon e patron per chi volesse supportare ma è pomettino grazie grazie mille grazie mille a martina che abbonata e poi se ritrovo il fogliettino vi faccio vedere le opzioni eccolo qui le opzioni per la prossima volta che potete scegliere quel cavolo che volete è tra stelline grumini se non sapete cosa sono i grumini sono i quei pigmenti che c'è di solito quando li mischiotto di gormini si vi lascia lascio perché sono molto carini e in questo caso li lascerei di più e poi la combo questa beige e yellow brown basta scrivere combo non preoccupate i nomi sono complicati molto bene quindi pomettino direi che è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio d'aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao